e quindi questa è una buona notizia. Oggi venerdì la nostra puntata è ricca di notizie perché abbiamo notizie che arrivano dagli esteri di prima grandezza e in Giordania in questo momento arriverà in Libano la Premier Giorgia Meloni di questo parleremo così come parleremo dell'incontro che si tiene invece in Germania tra Biden ed è un vertice con Germania, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna noi non ci siamo anche se presidiamo il G7 ma del resto Giorgia Meloni è in Libano capiremo se c'è stato o non c'è stato un invito e poi ancora la questione sinuare ieri l'uccisione lo abbiamo raccontato in diretta mentre arrivano le notizie oggi Elena ci racconta che cosa succede e diciamo rispetto ad esempio al tema degli ostaggi come si vive in Israele questo momento e anche cosa sta succedendo in questo momento in Libano poi ancora le notizie di politica interna con Luca Sappino ancora si discute molto di gestazione per altri e noi proveremo a fare un punto su questo ma poi c'è la questione che rimbalza tra Roma e Palermo e quello che rimbalza tra Roma e Palermo intanto sto vedendo davanti a me le immagini di Macron e Scholz perché appunto c'è questo vertice che si tiene a Berlino al quale partecipa Biden dicevo con Nicola Campagnani che a Palermo e Luca Sappino che a Roma seguiremo il processo a Salvini, la mobilitazione della Lega insomma restate lì perché è davvero una giornata particolare a chiudere la nostra settimana torna Alessandro De Angeli se cominciamo tra pochissimo Buon pomeriggio, bentrovati e bentornati a Tagadà Buon pomeriggio Alessio Orsinger Buon venerdì Tiziana, a te e a te e ai spettatori Allora si chiude la settimana ed è una giornata che porta con sé una serie di notizie e intanto c'è un punto stampa di Giulia Buongiorno, avvocato di Matteo Salvini la vedo nel video davanti a me, apriamo la diretta ascoltiamo, oggi è giornata di processo c'era la requisitore della Buongiorno c'è Nicola Campagnani per noi a Palermo Nicola? ...colleghi del suo partito sostengono che una parte della magistratura sia in colpa Sì Tiziana, adesso stai sentendo le dichiarazioni di Giulia Buongiorno, l'avvocato Un altro punto di vista siccome più volte è stata offerta a Open Arms la possibilità di una via di fuga è stata offerta più volte la possibilità di far scendere i migranti e continuamente è stato detto che questi migranti non potevano scendere invece potevano scendere ci siamo chiesti perché e la risposta ci è stata data da Oscar Camps Oscar Camps in un video che potete controllare dice che alla fine erano felici ma non perché sbarcavano ma perché stava cadendo, anzi era caduto il ministro Salvini quindi era una battaglia secondo loro contro Salvini Per questo che è un processo politico? Un processo politico è un momento in cui si dice che in realtà la gioia di Open Arms è la caduta di Salvini che è un uomo politico Ma la calata dei righissi così tanti non ha bene il clima in realtà? Guardi il clima in quest'aula come avete visto è stato un clima di rispetto io ho totale rispetto per la magistratura non ci sarà mai da parte mia e della mia difesa una parola fuori posto non c'è stata né risultare nulla in piazza manifestare solidarietà mi sembra soltanto un fatto di voglia da parte di alcuni rappresentanti del partito e dei parlamentari di stare vicini a Salvini Nel frattempo Nicola ricordiamo che i magistrati sono sotto scorta per un clima che non è esattamente pacifico è stata offerta da parte dell'Italia la possibilità di fare smarcare i migranti con motivazioni banali cioè attestando un semplice disagio ed è stato rifiutato è stato offerto da parte della Spagna va bene questa è chiaramente la posizione della difesa il processo si fa in aula non è sotto processo l'organizzazione non governativa ma è sotto processo il ministro Salvini ovviamente la difesa fa la sua parte e poi Nicola Campagnani ci racconterà tutto il resto io vi stavo dicendo che ci sono moltissime notizie all'ordine del giorno compreso il fatto che arriva notizia proprio di questi minuti i giudici non convalidano il trattenimento dei migranti in Albania e quindi anche su questo sentiremo decisione politica questa dei magistrati sento che anche su questo ci sarà polemica quegli stessi migranti ve li ricordate i 16 di cui vi abbiamo parlato abbiamo visto la nave grande grande che partiva dall'Italia alla volta dell'Albania ci ha messo un giorno e mezzo quei migranti costavano tipo 18 mila euro l'uno per quel viaggio sono arrivati in Albania erano 16 e sono diventati 12 perché su 4 c'erano stati dei problemi e adesso quei 12 uno dice va bene almeno quei 12 però sono arrivati costano 24 mila euro cada uno ma stanno lì senza guardare al tema dei diritti di quelle persone semplicemente guardando alle questioni pratiche, economiche eccetera dopodiché neanche quelli a quanto pare possono essere trattenuti in Albania e allora il gioco dell'oca si ritorna in Italia ne parleremo sento che ne parleremo parecchio nel frattempo vi dicevo notizie internazionali ieri abbiamo commentato in diretta l'uccisione di Sinuari il che apre una serie di interrogativi gli ostaggi a questo punto che succede a Gaza a questo punto che cosa succede in Libano cosa succede nella nostra missione in Libano arriva Giorgio Meloni nel pomeriggio ma nel frattempo c'è anche un altro vertice importante abbiamo visto mentre ci passava la palla il telegiornale le immagini di Macron, di Scholz perché c'è un vertice molto importante Joe Biden ultimo viaggio da presidente in Europa di Joe Biden ricordo a me stessa che noi presidiamo il G7 e lì non c'eravamo io non ho capito bene se non siamo stati invitati se non era previsto che fossimo invitati lo abbiamo chiesto a Palazzo Chigi sono certa che ci risponderanno in tempo per darvi questa informazione fatto sta che sono lì Gran Bretagna, Francia, Germania Stati Uniti a parlare di cosa? di guerre Giorgio Meloni ha detto per me la priorità era il Libano che certamente è una priorità però vorremmo capire meglio c'è questo e poi c'è il processo e poi c'è la gestazione per altri e poi Alessio aiutami anzi aspetta fammi salutare Marianna Aprile volto di questa rete ben trovata un po' il rituale la presentazione ma insomma la diretta come sai ce n'è e poi le dirette funzionano così Antonio Padellaro Il Fatto Quotidiano ben trovato Antonio giornatina ecco diciamo una bella giornata Vispa Alessio Tiziana partiamo da Salvini e poi arriviamo alla pronuncia del Tribunale di Roma perché stanno arrivando parecchi dettagli anche da quel punto di vista l'apertura dei siti dedicata appunto alle vicende processuali di Matteo Salvini con la chiusura dell'udienza di oggi gli scontri la scorta IPM scontro associazione nazionale magistrati e la Lega con la NM che dice i sospetti generano minacce Salvini così ha preparato l'incontro di oggi abbiamo una clip Paura? Zero ritengo di aver fatto il mio lavoro facevo il ministro mi avevate chiesto di bloccare l'immigrazione clandestina di fermare gli sbarchi di chiudere i porti di salvare le vite di ridurre i reati quello ho fatto quello mi viene imputato dalla sinistra una sinistra veramente vigliacca becera questo è un processo politico voluto dalla sinistra in Parlamento portato avanti da una parte di magistratura di sinistra che c'è nei tribunali di mezza Italia domani se avete qualche minuto di tempo ascoltate in diretta streaming ad esempio su Radio Radicale ci sarà l'intero intervento dell'avvocato della difesa la grandissima Giulia Buongiorno che smonterà pezzo per pezzo un'accusa allucinante fuori dal mondo incredibile assurda sequestro di persona per aver detto a una nave spagnola andate in Spagna andate in Francia andate a Malta andate in Tunisia andate in Libia andate in Grecia andate dove volete ma non in Italia allora intanto avete visto le parole di Salvini precedute dalle immagini che erano chiaramente le immagini che arrivano dal Libano anzi no dal Medio Oriente in particolare l'uccisione di Sinuara le immagini sono state diffuse dall'esercito israeliano lo dico perché se no sembra che Salvini abbia montato quel video a partire da quelle immagini è un errore nostro semplicemente abbiamo fatto partire un filmato e poi le dichiarazioni di Salvini non vorrei che insomma domani mattina ci trovassimo su tutti i giornali non è così errore nostro però le parole di Salvini sono autentiche Marianna che ci ha detto Salvini? Niente di nuovo mi viene da dire l'ennesimo video come altri ce ne sono stati a ridosso delle varie udienze di questo processo è l'ennesimo video che diciamo propone a essere cattivi un ribaltamento della lettura della realtà a essere clementi una visione molto parziale e interessata della realtà l'investitura popolare che l'allora ministro dell'interno Salvini aveva ricevuto sicuramente era legata a una campagna elettorale basata sulla propaganda antimigranti non era la prima non sarà stata l'ultima non è stata l'ultima ma sicuramente nessuno gli ha chiesto come sostiene Salvini nel video di bloccare a bordo di una nave per 19 giorni persone allo stremo delle forze che infatti man mano che i giorni passavano venivano gradualmente sbarcate proprio in ragione delle condizioni di salute e psichiche in cui erano perché un dettaglio che non si cita mai si parla sempre o della scabbia delle ferite delle torture di tutto il resto che sono cose visibili tangibili non si tiene conto dello stato psicologico in cui versano quelle persone una volta che vengono salvate e quanto difficile sia mantenerlo con l'equilibrio e se stai 19 giorni in mare diciamo fermo su quella nave le persone le navi per quanto attrezzata e l'equipaggio per quanto motivato e addestrato per gestire quelle situazioni non è una situazione umanamente sostenibile allora Nicola aiutami a ricostruire quello che sta succedendo lì a Palermo intanto chi c'è chi non c'è quante persone sono arrivate a sostenere il ministro Salvini hanno risposto alla mobilitazione in tanti le immagini che voi avete visto anche prima sono fuori dal carcere Pagliarelli l'aula bunker dove è appena finito il processo nel frattempo parallelamente in piazza Politeama a Palermo sono arrivati i parlamentari della Lega erano in tutto una novantina sono arrivati davvero tutti anche Giorgetti che era quello su cui c'era più dubbio tranne Vannacci ecco Vannacci è l'unico grande l'unico grande assente tra loro qua nel frattempo si è appena conclusa la audienza prima di aver sentito Giulia Buongiorno che ha chiesto piante dosi non c'era hai ragione ma che va anche piante dosi no 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 ma lo chiedo perché sai il ministro dell'interno insomma mi avrebbe colpito perché poi dopo adesso noi ci stiamo abituando a tutto va bene tutto abbiamo sentito le parole mi permetto di sottolineare non solo del leader della Lega non solo di un ministro di questo paese ma le parole del vicepresidente del consiglio che dice che è un processo politico i magistrati politicizzati lo stanno hanno chiesto la sua condanna eccetera eccetera stiamo parlando di cose che hanno un peso specifico importante e quindi conta se ci sono o non ci sono i ministri quali ministri ci sono se lì ci fosse stato anche il ministro dell'interno avrebbe avuto un ulteriore peso che all'epoca era capo di gabinetto se c'era un generale diciamo c'erano pure i militari non so come dire cioè è un cortocircuito incredibile dal mio punto di vista quindi lo chiedo per questa ragione Nicola non per sgridarti per capire per aiutarci a capire prego no 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 chiaramente no e il resto è il fatto di appunto quindi una pressione di 90 parlamentari in questa piazza una piazza dove non c'erano poi in realtà altri sostenitori della cittadinanza abbiamo registrato un contestatore soltanto quindi neanche contestazioni quindi una piazza davvero solo di parlamentari mentre qua si concludeva invece quest'udienza si è conclusa con le parole di Giulia Bongiorno che ha chiesto la soluzione perché il fatto non sussiste la cosa di cui più si è parlato e su cui lei ha più insistito è questo video che è stato messo agli atti dove si sostiene che all'interno dell'open arms al momento dello sbarco si è registrata un'esultazione non per lo sbarco dei migranti ma perché testualmente è caduto il ministro dell'interno ha insistito molto su questo e anche su questo rispondeva quando l'avete sentita in apertura Antonio Padellaro di cosa stiamo parlando cosa sta succedendo cosa è accaduto oggi a Palermo poi dopo il processo fra il suo corso i magistrati faranno le valutazioni che devono fare anche rispetto ad open arms che appunto in questo momento è Salvini che deve rispondere di quello che ha fatto o non ha fatto ed è lui e non l'intero governo ed è lui e non Conte ed è lui e non Trenta ed è lui e non Toninelli i quali pure si erano smarcati da quello che abbiamo visto accadere prego Antonio Allora a Palermo sta andando in scena una scena triste una scena triste di appunto questi parlamentari che sono stati come dire convinti di andare a esprimere la loro solidarietà a Salvini ma soprattutto la presenza di due ministri il ministro dell'economia Giorgetti e il ministro della pubblica istruzione o come si chiama Valditara allora io penso che ci sia un sequestro di ministri da parte di Salvini questo non è non è sanzionabile dal punto di vista penale ma dal punto di vista chiamiamolo così proprio dell'immagine che si dà di questo cioè noi siamo c'è un ministro dell'economia che fino a pochi minuti fa io consideravo una persona seria sto parlando di Giorgetti il quale con tutti i problemi che ha il nostro paese con la legge di bilancio le polemiche tutto quello trova il tempo per andare a esprimere solo soletto perché abbiamo visto che insomma non c'è una grande partecipazione la sua solidarietà a Salvini io sono convinto che ne avrebbe fatto volentieri a meno però sai quando il leader chiama poi Valditara che ha un'espressione la stiamo vedendo felicissima vedi come sorride come contento di solidarizzare questo è il ministro dell'istruzione pubblica e quale esempio sta dando a milioni di ragazzi gli studenti cioè lui ci sta dicendo che va a solidarizzare per ragazzi meno male che non hanno bloccato le strade perché se no scattava l'arresto intanto voglio segnalare perché dico per fortuna non hanno bloccato strade perché se no scattava l'arresto in funzione delle nuove norme diciamo sì appunto ma ecco il modello è questo cioè con tutto il ministro della pubblica istruzione va a solidarizzare attenzione per un processo politico quindi contro i magistrati contro il potere giudiziario contro i giudici che stanno per emettere una sentenza ma è una cosa questa dalla presenza dei due ministri cioè di una gravità senza precedenti e soltanto Salvini poteva costringerli veramente con la sua scarsa il suo scarso senso delle istituzioni non mi ricordo se c'è il precedente nel 2013 perché a tutti è venuto in mente il tribunale Berlusconi lì c'erano i ministri credo ci fossero anche lì purtroppo alcune volte le cose tutti i parlamentari e credo che tra quei parlamentari ci fossero dei ministri però posso nel senso quello è l'unico precedente che ci ricordiamo il format è sempre Berlusconi su questi temi Berlusconi ha impresso la sua impronta sul paese e sulla politica di questo paese però riagganciandomi a quanto diceva dicevate prima con Antonio Padellaro se c'è una cosa che gli studenti imparano dal ministro dell'istruzione in piazza per solidarizzare con un imputato e che questo è un paese garantista sarebbe bene se lo imparasse anche il ministro imputato in questione che invece condanna via social e non solo chiunque sia coinvolto in un qualche reato se solo è un po' abbronzatino diciamo la seconda cosa che imparano è che si può scendere in piazza senza essere manganellati ed è un'altra buona notizia insomma perché ma loro avranno certamente chiesto il permesso e quella era sicuramente una manifestazione autorizzata ricordiamo che anche il sistema delle autorizzazioni delle manifestazioni non è esattamente così stringente che è un'altra cosa su cui ci si attacca con la propaganda altra cosa che invece può imparare il ministro e chi solidarizza in piazza con lui è che finora tutte le volte che la magistratura si è occupata non di Salvini ma delle ONG non è venuto fuori niente le ONG sono state passate in rassegna e questo diciamo più volte lo abbiamo ribadito in questo studio dateci una sentenza finora finché non c'è una sentenza stanno più avanti le ONG che Salvini mettiamola Alessio Tiziana altra notizia che sta camminando con prepotenza nella gerarchia delle notizie arrivate nelle ultime ore riguarda la pronuncia della sezione immigrazione del Tribunale di Roma che proprio pochi minuti prima dell'inizio di Tagadà non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Jader in Albania erano 16 poi sono diventati 12 su 12 c'è stata la pronuncia ma è interessante capire anche le motivazioni che sono state addotte nel comunicato i due paesi da cui provengono i migranti che sono Bangladesh e Egitto non sono da considerare paesi sicuri e qui si torna la sentenza del 4 ottobre della Corte di Giustizia il tema è che adesso i migranti dei paesi non sicuri come sostengono i legali come si paventa dalle prime informazioni che arrivano dovrebbero ritornare dove? in Italia è il gioco dell'oca si riparte dalla casella di partenza allora Marianna rimettiamo in fila le questioni noi eravamo stati facili profeti perché quando è arrivata la sentenza e nel frattempo Nicola Campagnani che oggi è a Palermo era in Albania a raccontarci quello che succedeva noi ci eravamo detti ma guardiamola questa lista bella che noi abbiamo preparato dei paesi sicuri l'abbiamo confrontata con quelli che vengono considerati paesi sicuri per la Corte Europea a partire dal fatto che dice la Corte Europea va letta con attenzione quella sentenza e io sono certa che lo hanno fatto anche i nostri cioè chi ci governa prima di immaginare di portare i migranti lì e però qualcosa deve essere andato storto perché cosa dice la Corte di Giustizia Europea? dice lo spieghiamo bene anche a chi ci segue da casa guardate che un paese deve essere sicuro tutto deve essere sicuro in tutto il suo territorio per essere definito sicuro stiamo parlando dei paesi di provenienza dei migranti perché tu lo possa rimandare lì quel paese deve essere sicuro in tutto il suo territorio e per tutti cioè vale a dire che se lì c'è una discriminazione per gli omosessuali tu non li puoi rimandare indietro quindi se ne deduce che nella nostra lista che è una lista piuttosto ampia forse si salva un paese di tutta la lista forse si salva un paese tant'è che quelle persone quelle 16 diventate 12 che erano del Bangladesh e dell'Egitto guarda caso devono tornare in Italia era così complicato immaginare che andava così dalle mie parti che sono parti molto terra terra ci hanno provato perché questa lista di paesi sicuri è stata allungata non troppo tempo fa proprio per questo proprio per provare a trovare una gabola legale che lascia il tempo che trova perché per fortuna facciamo parte di un consenso internazionale che ancora qualche paletto morale e etico nella difesa dei confini predilige quella dei confini morali rispetto a quella dei confini supposti confini geografici e materiali questa lista è stata allungata proprio perché era il viatico per provare a fare altri accordi indicibili con i paesi di provenienza paesi sempre più liberali e sempre più violenti senza contare diciamo i paesi in cui ormai è diventato quasi impossibile vivere perché ricordiamo c'è un aumento di immigrati dal Bangladesh perché banalmente lì le conseguenze della crisi climatica sono un pochino più tangibili di quanto siano qua da noi e qua da noi già ne vediamo e le raccontate ogni giorno di disastrose hanno provato a farlo non gli è riuscito adesso si stanno trincerando dietro un'azione di propaganda che vede il suo punto di forza nel fatto che von der Leyen ha lodato il modello Albania e che altri paesi l'Olanda si stanno attrezzando per informarsi su come farlo io credo l'avete detto spesso in questo studio lo diciamo tutti da un po' l'Europa è un bivio fondamentale deve decidere che cosa diventare soprattutto se è vero o no un'anima si misurerà anche la scelta si misurerà anche su questo cioè su che anima vorrà darsi io credo che questa vicenda su molti fronti perché quello che ci ricordava Marianna dei paesi che hanno espresso apprezzamento adesso è al di là di von der Leyen che deve organizzare le sue alleanze quindi diciamo poi ognuno fa politica perché c'è anche questo piccolo elemento diciamo molti paesi si stanno confrontando con un tema quello dei migranti che sposta voti e quindi hanno un pezzo a destra che spinge in quella direzione e cercano di prendere misure rispetto a quel tema ed è ovvio che una soluzione purché sia diventa una roba alla quale guardiamo con attenzione poi però le cose siccome qui non stiamo parlando di suggestioni non stiamo chiacchierando al bar le cose devono essere praticabili i governi devono investire i soldi per realizzare delle cose che poi si possano fare perché siccome sono i soldi nostri delle nostre tasse magari li spendiamo con intelligenza quindi il punto è se poi quel progetto può funzionare oppure non può funzionare ora io già sento che la cosa sarà che i magistrati ce l'hanno col governo bravissima nota della Lega appena arrivata proprio nel giorno dell'udienza Open Arms l'ordinanza che non convalida il trattenimento degli immigrati in Albania è particolarmente inaccettabile grave i giudici pro immigrati si candidano alle elezioni ma sappiano che non ci faremo intimidire questa è una nota della Lega appena diffusa la leggo dal cellulare per questo perché appena arrivata sa perché era intuibile mettiamola così prego Antonio no dico ci sono anche delle pronunce europee che stiamo aspettando molto importanti perché questa è una materia delicatissima quella dei paesi di provenienza hai ragione nel sottolineare l'improvvisazione che veramente colpisce ecco la domanda è questa visto che stiamo andando nella direzione abbiamo capito tutti come va a finire questa storia che facciamo della struttura che è stata costruita in Albania vogliamo farne un B&B un hotel a tre stelle a quattro stelle cioè se non funziona poi quei soldi li abbiamo investiti per farci cosa questo dici ma io mi chiedo con quale appunto visione dei problemi della soluzione dei problemi questo governo opera perché tu non è che fai un errore per cui mandi un immigrato non regolare da Lampedusa che posso dire a Crotone tu costruisci una struttura gigantesca tra l'altro mi sembra funzionale che certamente fa il confronto con con lo schifo che abbiamo in Italia accetto vince non c'è dubbio fatiscenti eccetera e certamente colpisce ma per essere occupata da chi da 16 che diventano 12 che poi diventano 0 cioè questo rischia di essere scusate un boomerang spaventoso per il governo Meloni infatti questo è un tema che secondo me preoccupa moltissimo quando si investe nella lotta all'immigrazione clandestina e si commettono errori di questo genere poi si pagano anche elettoralmente io voglio arrivare da Giorgio Meloni e aprire Elena Testi perché ricordiamolo Elena è in Israele e Giorgia Meloni arriva in Libano però diciamo c'è quella linea blu che le separerà e sicuramente quella cosa cioè questo viaggio è molto importante e ci arriviamo però prima di arrivare a questo tema vi chiedo soltanto velocità perché abbiamo fatto siamo straordinariamente in ritardo mi veniva in mente che mentre discutevamo di manovre i soldi che ci sono o non ci sono mentre discutiamo di questioni internazionali di prima grandezza abbiamo approvato in maniera definitiva al Senato una cosa fondamentale per le nostre vite cioè è diventato reato universale la gestazione per altri giusto Alessio con annunci anche in questo caso già di ricorsi perché l'associazione Luca Coscioni si è premurata di farci sapere con questo lancio di agenzia che a poche ore dall'approvazione ci sarebbero già 30 richieste a loro di assistenza per ricorsi da parte di altrettante coppie segnalo che 24 sono coppie eterosessuali 4 sono coppie omosessuali ed è già una proporzione che non rispecchia la realtà perché nel 90% dei casi sono coppie eterosessuali e nel 10% sono coppie omosessuali abbiamo sentito la ministra Roscella ci tenevamo non c'è un effetto retroattivo questa sarà una legge che avrà effetto per chi da ora in poi vorrà accedere a questa pratica l'ufficiale di stato civile di fronte al quale si presentino due padri per registrare un atto di nascita all'estero è tenuto a denunciarli? sì ma anche il medico cioè che un pubblico ufficiale è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge alla procura e poi si vedrà quindi diciamo immaginiamo un mondo di delatori e poi contemporaneamente immaginiamo anche un sistema nel quale facciamo delle leggi per deterrenza fondamentalmente cioè questi sono i due no? come se i nostri due livelli abbiamo parlato per l'immigrazione ma vale anche per questo come se fare la faccia cattiva potesse realmente fare da argine all'ambizione di sopravvivere non di vivere ma di sopravvivere di chi scappa da persecuzioni discriminazioni carestie guerre e tutto il resto è come se le carte bollate potessero essere un deterrente per una coppia che decide di accedere alla gestazione per altri all'estero un processo lunghissimo già ora quindi non è una marca da bollo in più Antonio ti chiedo cioè è evidente che stiamo parlando di posizionamento ideologico ma quello che colpisce al netto di come uno la pensi perché poi uno può essere contrario alla gestazione per altri ma il tema è semplicemente posizionamento ideologico e quindi stiamo parlando di propaganda stiamo parlando del nulla di fuffa oppure no considerato che appunto partiranno i ricorsi considerato che se io ho fatto un reato e lo definisco universale deve essere considerato universale pure dagli altri paesi se no universale non è quindi già è sbagliata la parola che l'italiano è una lingua chiara diciamo quindi non è universale ma facciamo finta questo vuol dire che sono miei complici quelli con cui ho fatto il reato quindi il medico la gestante nel paese loro non sono colpevoli di reato in Italia metti che vengono a fare un viaggio li arrestiamo cioè di che stiamo parlando stiamo parlando del proseguimento della campagna elettorale con altri mezzi cioè un minuto fa parlavamo di questo spot finito nel ridicolo del sito albanese adesso parliamo di una cosa tra l'altro una delle associazioni o la principale associazione che supporta la ministra Roccella defavorevole a questa legge incredibile si chiama Provita allora questi dovrebbero sostenere il fatto che la vita umana cioè la nascita di bambini perché di questo si sta parlando dovrebbe essere il fulcro l'elemento fondante di associazioni di questo genere invece loro che si chiamano Provita vogliono impedire la nascita di nuove vite ed è incredibile è un cortocircuito straordinario beh non il primo diciamo non il primo che vediamo Elena Testi eccoci Tiziana io mi trovo di sotto alla chiria che è il ministero della difesa nonché sede dell'IDF che giornata è? una giornata sicuramente diversa da quella di ieri quando abbiamo raccontato in diretta la morte di Sinwar numero uno di Hamas è una giornata che è cambiata nel corso della giornata e si è conclusa ieri sera con delle manifestazioni qui a Tel Aviv da parte del forum delle famiglie degli ostaggi che pongono tre domande ma che in Israele se le pongono tutti la prima con chi fare un accordo adesso dopo la morte di Sinwar come procedere come riportare a casa gli ostaggi e che cosa accadrà cioè ci sarà un c'è stato il fuoco e quindi anche una diminuzione bellica all'interno della striscia di Gaza oppure no con chi parlare già gli analisti qui in Israele danno due nomi uno è il fratello di Sinwar ma viene dato per improbabile perché ha ottima tattica bellica ma non ha conoscenza politica l'altro è Khaled Machel che è la parte diciamo meno estremista di Hamas che attualmente vive in Qatar e che vedono in Israele come l'unico dialogante per trovare un accordo da una parte quindi gli ostaggi la richiesta esatto come un possibile interlocutore dall'altra c'è il Libano dove oggi c'è Giorgia Meloni la Presidente del Consiglio e non arrivano buone notizie da quel fronte perché se si magari abbasserà la tensione su Gaza sul Libano sicuramente sta crescendo una nuova brigata sta andando in questo momento al confine per riuscire ad ottenere i risultati questo è stato questo è stato detto da sì diciamo che peraltro le parole di Netanyahu ieri non ci hanno tranquillizzato né rispetto a Gaza né rispetto a quello che succederà in Libano no Elena? non hanno affatto tranquillizzato non hanno neanche mai pronunciato nessuno degli esponenti politici né quelli moderati né quelli più estremissimi parlo di Ben Givir la parola accordo nessuno ha mai detto la parola accordo se non è uscita adesso l'indiscrezione di una diciamo un'interlocuzione tra Netanyahu e Biden nella quale si dice dobbiamo è il momento propizio per riportarli tutti a casa e ti dico l'ultima cosa e qui concludo però Hezbollah dall'altra parte quindi da parte libanese dice è cambiata la guerra abbiamo preso un'altra marcia perché stiamo utilizzando dei missili differenti e probabilmente si riferisce a quell'attacco di ieri che ha portato alla morte di cinque soldati israeliani grazie Elena per il momento sono davvero in grande ritardo Alessio apertura dei siti Tiziana all'arrivo di Giorgia Meloni in Libano accolta dal primo ministro libanese Mikati è venuta proprio pochi minuti fa ma l'apertura di tutti i siti è dedicata alla pronuncia del tribunale sezione immigrazione di Roma per i migranti in Albania che devono essere riportati in Italia Luca di questo si parla anche davanti ai palazzi ma si Tiziana in realtà io sono davanti alla sede del PD dove c'è una direzione del Partito Democratico che era convocata sulla manovra ma evidentemente tutte le dichiarazioni di entrata suono sull'Albania suonano più o meno come noi l'avremmo detto eh già ci fermiamo grazie ai nostri ospiti grazie davvero per essere stati con noi qualche minuto e ritorniamo di nuovo in studio saluto Matilde Siracusano Forza Italia sottosegretaria dei rapporti con il Parlamento ben trovata giornata complicata glielo dico immagino saluto non avevo dubbi guardi Vanessa quando c'è lei Liria Abate editorialista di Repubblica ben trovato buonasera in collegamento Elisabetta Piccolotti deputata di Alleanza Verdi e Sinistra ben trovata salve buonasera e sempre in collegamento Giovanni Sallusti direttore di Radio Libertà ben tornato buon pomeriggio grazie Alessio il nostro sondaggio Tiziana avremo un approfondimento più tardi tra gli altri sul tema della gestazione per altri che è diventata reato universale quindi sulla nostra pagina Instagram vi chiediamo se siete d'accordo o no con la legge VAR chi si no non so votate dopo approfondiamo e diamo il risultato apritemi per favore Nicola Campagnani vi porto a Palermo lì questa mattina requisitoria di Giulia Buongiorno l'avvocato difensore di Salvini il processo è quello per Open Arms sono stati chiesti sei anni giusto per Salvini dalla pubblica accusa oggi è la giornata della difesa Nicola Campagnani cosa è successo a Palermo è un po' basso l'audio di Nicola in studio non lo sentiamo buongiorno è stata molto lunga è stata molto lunga adesso scusate mi sentite adesso perfetto sei anni per sequestro di persona e omissione dati d'ufficio questo ha chiesto l'accusa a Salvini oggi Giulia Buongiorno una ringa lunghissima di quattro ore si è fermata soltanto dieci minuti di pausa e ha concluso poco fa l'abbiamo vista mentre parallelamente in piazza Politeama a Palermo si riunivano tutti i parlamentari della Lega una novantina tra parlamentari di Senato e Camera e qualche eurodeputato in questo contesto in cui adesso abbiamo anche visto uscire Oscar Camps che ha rilasciato qualche dichiarazione in spagnolo di sfuggita abbiamo carpito qualcosa perché è stato tirato in ballo anche lui da Giulia Buongiorno dicendo che sull'Open Arms si festeggiava per la caduta del Ministro Salvini come a dire che quella era stata un'operazione politica e tutto questo mette insieme appunto la piazza politica questo processo quindi Salvini sproveduto è caduto nella provocazione questa sarebbe la teoria questa sì sarebbe la sintesi no perché o era una provocazione allora è caduto nella provocazione oppure ha scelto una linea politica ed è a processo per quella linea politica piccolotti parlamentari ministri mobilitati tutti in piazza per il processo ad un ministro che incidentalmente è capo di partito si sa ma è anche vicepresidente del consiglio a cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito ad un attacco gravissimo all'indipendenza della magistratura e a un tentativo di violare l'equilibrio dei poteri nello stato italiano come sempre la destra non conosce probabilmente le regole della democrazia e si permette quindi di fare atti come questi che sono atti degni del regime di Orban non si va a protestare sotto ad un tribunale in qualità di politici parlamentari membri del governo perché vuol dire che si sta dicendo a quei giudici che devono prendere in autonomia una decisione che sono passibili e si sta cercando di intimorire lo dico sapendo che quando i processi sono stati a carico di esponenti della sinistra questo non è mai accaduto anche di esponenti del mio partito noi non ci siamo mai permessi anche quando pensavamo che il processo fosse sostanzialmente ingiusto di fare azioni di questo tipo questo è il primo punto secondo punto Giulia buongiorno nella sua strategia difensiva diciamo così la butta in politica e questo è il segno evidente che in punta di diritto sul terreno del diritto internazionale Salvini ha torto non ci sono appigli per difendere Salvini in punta di diritto e invece l'ONG e quindi sposta sull'ONG dice la piccolotti arriviamo anche a quello arriviamo anche a quello così teniamo separate le questioni perché tante sono le questioni su cui voglio sentirvi nel frattempo vedo Alice Line oggi è una giornata così Luca ci sei tu a raccontarci cosa sta succedendo perché quella è la sede del partito democratico sentiamo intanto sentiamo cosa dice Schlein si guarda Tiziana ma ti farei sentire Alice Line perché ha fatto cominciare la direzione sull'Albania fatto con l'Albania è un accordo contro la legge un accordo fuori legge siete andati ieri a portare al tavolo governi europei per presentare questo accordo che viola il diritto internazionale il diritto europeo e il diritto nazionale voglio ringraziare i nostri parlamentari che già ieri e pure oggi sono stati a fare un'ispezione nei centri in Albania allora usciamo dalla direzione del partito democratico che ci ricordava Luca era convocata su altro e invece poi Alice Line è partita dalla notizia la notizia è la seguente il tribunale non convalida il trattenimento in Albania quindi quei 16 migranti che avevamo visto sulla nave essere portati in Albania che poi erano diventati 12 sembra una storiella ma è la vita delle persone erano diventati 12 adesso diventano 0 nel senso che si ritorna al punto di partenza arriviamo anche a questo lo ripeto è una giornata complicata proviamo a stare sulle cose processo a Salvini diceva Piccolotti primo punto primo punto è gravissimo che ministri parlamentari vadano lì davanti cioè a in qualche modo fare pressione ai suoi magistrati Siracusano non è un tentativo di far pressione ma di manifestare contro una gravissima ingerenza della magistratura sulla politica perché ricordiamoci che il punto di vista rispetto a quello della collega Piccolotti è inverso questo è un processo politico è un intervento della giustizia penale su un atto di un governo di un governo evidentemente avallato da una maggioranza parlamentare quindi devono essere mandati tutti a processo il ministro il presidente del consiglio e direi aggiungere anche tutti i parlamentari che hanno votato i decreti di sicurezza a questo punto tutti a processo quindi è un unicum c'è un precedente molto pericoloso quindi fanno bene se vi accavallate non funziona tanto abbiamo modo e tempo di confrontarci io sostengo al massimo i parlamentari della Lega che sono lì a manifestare perché ripeto è un'ingerenza molto grave che rischia di creare anche un precedente pericoloso se fossi stata parlamentare della Lega ci sarei andata anch'io anche da parlamentare di Forza Italia non ci sono andata per altri impegni quindi condivido l'iniziativa dei colleghi fatemi sentire Salvini questa mattina e questa mattina o ieri sera? ieri sera ritengo di aver fatto il mio lavoro facevo il ministro mi avevate chiesto di bloccare l'immigrazione clandestina di fermare gli sbarchi di chiudere i porti di salvare le vite di ridurre i reati quello ho fatto quello mi viene imputato dalla sinistra una sinistra veramente vigliacca becera questo è un processo politico voluto dalla sinistra in Parlamento portato avanti da una parte di magistratura di sinistra che c'è nei tribunali di mezza Italia domani se avete qualche minuto di tempo ascoltate in diretta streaming ad esempio su Radio Radicale ci sarà l'intero intervento dell'avvocato della difesa la grandissima Giulia Buongiorno che smonterà pezzo per pezzo un'accusa allucinante fuori dal mondo incredibile assurda sequestro di persona per aver detto a una nave spagnola andate in Spagna andate in Francia andate a Malta andate in Tunisia andate in Libia andate in Grecia andate dove volete ma non in Italia tra le varie cose è anche parecchio anomalo che rispetto a una circostanza del genere una procura sullo stesso sull'analoga vicenda chieda l'archiviazione un'altra procura chieda questo è riferimento alla nave ci sono due vicende la nave 18 e la nave Gregoretti che però hanno delle differenze tra loro e sono differenze non esattamente inessenziali adesso se volete ci entriamo ma ci arrivo Salvini dice io sono mi dichiaro colpevole mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia io vi voglio far vedere cosa succedeva su Open Arms ce le abbiamo le immagini me lo fate vedere Open Arms sono giorni che abbiamo lanciato l'allarme gente in mare risse violenza panico crisi d'ansia a che punto dobbiamo arrivare ai morti quelli che non sono morti in mare devono morire a bordo della Open Arms è questo quello che volete Liria Abate siamo soli contro tutti contro le NG i tribunali l'Europa e i ministri impauriti così un post della Lega in quei giorni di cosa stiamo parlando? stiamo parlando del fatto che per raccogliere pochi voti o comunque per raccogliere dei voti la Lega e il ministro Salvini dell'epoca ha sfruttato quella povera gente che scappava e scappa dalle guerre dalle situazioni di crisi umanitaria e quella nave dell'ONG li ha raccolti e chiedeva di un porto sicuro quindi di farli sbarcare e proprio per fare forza su quella forza elettorale su quel punto elettorale si è invece fatta forza su poveri migranti che chiedevano appunto soltanto aiuto 147 persone per 19 giorni soltanto al 17esimo è arrivata l'apertura della Spagna per chiedere a Open Arms appunto alla ONG di andare ad attraccare in Spagna e loro hanno detto che dopo 17 giorni di navigazione di mare con le persone come avrete visto lì stremate con i medici che accertavano le situazioni sanitarie devastanti loro 7 giorni di navigazione non si sentivano di affrontarle perché sarebbe stata ancora più grave e quindi chiedevano sarebbero stati 17 più 7 più 7 chiedevano appunto un porto sicuro e quindi assistenza per queste persone che poi è dovuta intervenire l'autorità giudiziaria sequestrando la nave e quindi obbligando tutti a farli sbarcare e sono stati poi tutti accolti minori prima ancora progressivamente è avvenuto quello che è avvenuto poi anche Giovanni a ricordarci diciamo che era la linea del governo fino ad un certo punto ma poi diventa la linea di Salvini è la Lega quando scrive il post che leggevo e sono le dichiarazioni di Salvini quando Salvini dice mi hanno lasciato solo orgoglioso di essere solo contro le NG contro i tribunali contro l'Europa e contro i ministri impauriti a chi è il riferimento? Il riferimento è ai ministri Trenta e Toninelli che scrivono guarda che il Tarra ha già detto che devono scendere falli scendere e a Conte che pubblicamente scrive al Corriere della Sera dicendo i bambini devono scendere da lì assolutamente perché manco sui bambini c'era la volontà di Salvini di farli scendere evidentemente se Conte è costretto a scrivere al Corriere della Sera allora stiamo parlando della linea politica del governo o della linea politica di Salvini perché poi i magistrati decideranno se è stato commesso o no un reato però secondo me almeno noi potremmo trovare un punto di incontro a stabilire di chi era la linea se era la linea rivendicata da Salvini come la sua linea e quindi la linea della Lega di un partito casomai di governo o se era la linea di un governo e loro l'hanno ribadito l'hanno rivendicato e ribadito prego Giovanni però scusate a questa domanda risposto molto più autorevolmente di me la ringa odierna di Giulia che ricordo non è l'ultimissima arrivata però è l'avvocato difensore di Salvini io chiedo al giornalista chiedo a te noi facciamo gli osservatori ma ti spiego perché c'è un elemento secondo me interessante oggettivamente al di là dei dettagli strategia difensiva che non sono mia materia però qual è qual è l'elemento Giulia Buongiorno che oggi secondo me ha fatto una perorazione civile oltre che tecnico giuridica per questo è interessante e ci racconta anche oltre i codici e i codicilli tra le altre cose cosa ha dimostrato questo processo c'è in ballo l'autonomia della politica niente meno c'è un architrave della convivenza civile di uno stato di diritto liberale tra le altre cose ha prodotto agli atti il famoso contratto del governo giallo-verde in questo contratto alla voce politica e migratoria e semplifico si affermava in modo chiaro e netto il principio prima redistribuire e poi sbarcare prima redistribuire era nel contratto di governo scusi nel documento ufficiale che fonda fonda l'esistenza del governo giallo-verde e si regolano sempre così posso interloquire su questo in ogni caso del genere io l'ho ascoltato prima in ogni caso del genere il governo giallo-verde si regola così cosa succede in quel frangente non sfuggerà nessuno che era un momento politico particolare perché si stava cambiando la maggioranza allora Conte di nuovo secondo me buongiorno ha ragione oggettivamente al di là della causa Conte manda dei pizzini con una corrispondenza ad amorosi sensi col PD dicendoli no ma è Salvini il cattivo io non ce l'ho ho capito adesso poi tu non li possiamo definire come ti pare però c'è un fatto c'è un dato ufficiale cambia idea Conte per questo ma anche nella stessa lettera al Corriere in cui usa i minori per differenziarsi da Salvini dice io non intendo farli sbarcare tutti non intendo mettere in discussione il principio prima redistribuire poi sbarcare non lo metto in discussione neanche all'ultimo segno che era chiaramente il programma del governo l'intento condiviso di tutti tant'è che Toninelli si bullava in tv si bullava in tv del fatto che senza di lui Salvini non andava da nessuna parte che era merito anche suo e quindi finiamola con questa ipocrisia scusami però io ti ho citato due posizioni anzi tre posizioni ufficiali Giovanni non è che ti ho citato un punto di vista o un'ipotesi fantasiosa ci sono tre posizioni agli atti ufficiali quindi non è che di questo possiamo discutere poi noi possiamo immaginare che fosse perché avevano deciso e volevano interrompere l'esperienza di governo hanno governato la politica c'è tutto quello che vuoi tu ma il dato il dato è che in quel momento la Lega si fa vanto di essere la sola a portare avanti quella politica e quindi chi era nel contratto di governo Salvini ma per carità e oggi Salvini risponde di un atto politico ma è gravissimo la magistratura decidirà se ha fatto bene o se ha fatto male perdonami scusate è l'unico politico che in occidente deve come hai detto tu rispondere di un atto politico in tribunale è il funerale della separazione dei poteri perché tu puoi avere dal tuo elettore un'indicazione l'elettore ti sceglie e poi dipende da come le fai le cose perché se le cose le fai in violazione della legge indovina se devi risponderne oppure no certo che devi risponderne certo che devi risponderne se violi la legge se le ha fatte uguali fermi lì apritemi torno da tutti vi assicuro torno da tutti però siccome vedo di fronte a me Marta Vigneri con Bannacci non ci posso credere il generale Bannacci è la prima volta che posso parlare con il generale Bannacci in persona personalmente come sta generale? sto benissimo dottoressa ma non è la prima volta che io però mi abbraccio con Marta Vigneri qua a fianco a me e quindi siete un po' abituati io dei fatti vostri diciamo faccio volentieri a meno di sapere cose che non mi interessano e non mi riguardano però diciamo è la prima volta che io parlo con lei in diretta senta generale subito subito mi tolga un dubbio le sarà capitato di osservare che aveva usato la metafora sbagliata cioè noi ci siamo lasciati che io ho mandato in onda delle immagini in cui lei diceva che arrivava lo tsunami che lei sarebbe stato lo tsunami quest'onda pazzesca ora io le voglio dire lo tsunami non è un'immagine felice perché lo tsunami porta devastazione come lei ben sa quindi si è pentito perché se no viene da chiedersi a chi vuole portare danno perché lo tsunami porta danno allora essere maliziosi uno pensa che lei vuole portare danno a Salvini ma faccia finta io non l'ho detto prego dottoressa ma vede l'arte della strumentalizzazione delle parole nelle sue bocche diventa proprio una scienza lo tsunami è un qualche cosa di travolgente è un qualche cosa di irruento è un qualche cosa che porta trasformazione è solo lei a vederla come la devastazione in senso negativo lo tsunami lo tsunami porta morte vannacci su questo non c'è non c'è discorso quello è il senso dello tsunami poi dopo guardi guardi è come quando si dice un terremoto politico anche il terremoto porta la morte ma è normalmente usato nell'immagio comune quindi un ragano un cataclisma una qualsiasi cosa comunque lei me lo conferma che arriva il cataclisma vannacci ho inteso esprimere le mie parole e non strumentalizzarle ma per carità ci mancherebbe lei me lo conferma me lo conferma se lei parla sopra mentre parlo io io non la posso sentire dottoressa me lo conferma no mi perdoni ma è la questione del ritardo io ogni giorno ogni giorno che vado ogni giorno che vado che vado per le strade ci sono tantissime persone che mi avvicinano che mi supportano che condividono quello che dico e stanno aumentando sempre di più probabilmente è solo una mia impressione però io ritengo che questa onda che si è formata con l'elezione europea si stia ingrossando sempre di più e che non si limiti a un'onda sola ma ce ne saranno tante altre poi erano molto scettici anche riguardo il mio successo all'elezione europea e poi si sono dovuti ricredere hanno dato la colpa a chi mi ha votato non c'è dubbio che ha raccolto moltissimi voti le devo chiedere risposte più brevi così riusciamo a confrontarci perché se no col problema del ritardo poi è sgradevole perché sembra che io le parli sulla voce le chiedo a Viterbo diciamo non è andata benissimo come se l'è spiegata lei? Anche questa è una sua percezione per me a Viterbo è andata benissimo dovevo essere là se non sbaglio era il 19 sera il 19 sera c'erano più di 400 persone abbiamo fatto una serata bellissima quando l'intervistatrice ha detto voi lo voterete un partito vannacci si sono alzati in piedi si sono stracciati le veste quindi non vedo perché debba essere andata male quindi lei lo vuol fare un partito vannacci se lo aspetta non lo farà no ho risposto ho risposto anche a questa domanda ho detto che il partito vannacci oggi non è in programma anche perché il partito non è un obiettivo l'obiettivo è cambiare l'Italia e cambiare il mondo il partito potrebbe essere uno strumento ma perché scegliere lo strumento più lungo più in salita e più faticoso quando invece ce n'è un altro che è già disponibile e quindi cos'è lo strumento disponibile cos'è una corrente dentro la Lega guardi io sono dentro la Lega quindi non so se la vuole chiamare corrente venticello uragano lo chiami come vuole sono dentro la Lega agisco con la Lega sono integrato all'interno del partito andiamo avanti condivisiamo gli stessi principi e lo tsunami arriva a proposito a proposito di Salvini a proposito di Salvini le chiedo oggi Salvini era a Palermo come lei ben sa so che stamattina ha pubblicato una foto con Salvini sui suoi social per esprimere la solidarietà il sostegno immagino dopodiché le faccio questa domanda e la faccio all'uomo delle istituzioni perché lei è un generale oggi è arrivata anche la notizia che i pubblici ministeri sono sotto scorta perché c'è un clima che è un clima preoccupante di insulti le minacce secondo lei bisognerebbe tenere un po' più bassi i toni guardi non ho mai ho sempre giudicato esecrabile la violenza gli insulti e le minacce quindi non potrò mai condividere una cosa del genere quindi non credo che sia la persona alla quale rivolgere questo tipo di osservazioni chiunque si sia rivolto in termini di insulti e minacce ha fatto male no no ma certo che non mi riferisco a lei per gli insulti e le minacce mi riferisco al clima che si è creato intorno a questo processo clima tale per cui è chiamata una mobilitazione con i ministri di questo governo in piazza davanti ad un tribunale o comunque a raccontare che c'è una magistratura di sinistra che vuole condannare Salvini questi magistrati finiscono sotto scorta è un clima un po' altino una temperatura un po' altina secondo lei va abbassata questa temperatura? Guardi detto da chi dice continuamente che il diritto alla manifestazione è un diritto inalienabile mi sembra un controsenso quindi se una parte della popolazione si mobilita per manifestare nei confronti di Salvini è una libera manifestazione del pensiero fa parte del diritto della manifestazione evidentemente sono quelli che minacciano che insultano che fanno male ma la manifestazione di solidarietà nei confronti di Salvini fatta da una parte della popolazione italiana è un diritto inalienabile che io sostengo assolutamente è una parte della popolazione che rappresenta chi l'ha venduta chi l'ha votata ovviamente perché sono i rappresentanti della Lega alcuni poi rappresentano tutti noi perché sono ministri non è una parte della popolazione qualunque grazie e vannacci per essersi collegato con noi e quindi non avrebbero il diritto di manifestare no 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 semplicemente specificavo grazie a lei arrivederci buona giornata arrivederci buona giornata a lei allora nel frattempo a proposito i magistrati Alessio nel frattempo Tiziana l'apertura di tutti i siti e la pronuncia della sezione immigrazione del tribunale di Roma che non convari del trattenimento dei 12 migranti sui 16 che erano arrivati nei centri albanesi voluti dal governo italiano dovranno ritornare in Italia questi immigrati perché la motivazione riguarda il fatto che i paesi di provenienza Bangladesh e Egitto nello specifico non sono da considerarsi paesi sicuri secondo i magistrati e secondo anche la corte europea dei diritti dell'uomo e sono anche delle reazioni muscolari arrivate da fratelli d'Italia nello specifico la leggo su X sui social si toga rossa si vede una toga rossa sullo sfondo e poi assurdo il tribunale non convari del trattenimento dei migranti in Albania in aiuto della sinistra parlamentare arriva quella giudiziaria vorrebbero abolire i confini dell'Italia non lo permetteremo onorevole piccolotti era così complicato immaginarlo no lo sapevamo tutti lo abbiamo detto più e più volte tra l'altro l'Egitto devo spiegare perché l'Egitto non è un paese sicuro agli italiani che sanno tutti della morte dell'uccisione con torture di Giulio Regeni pensare che l'Egitto sia un paese sicuro significa pensare scrivere nelle norme significa di fatto esporsi ovviamente al fatto che i tribunali poi le cancellino ma io sono davvero esterrefatta dagli argomenti che ho sentito oggi perché sono argomenti politici e non argomenti di diritto allora è legittimo che io Matteo Salvini si abbia due visioni sull'immigrazione sul mondo completamente opposte questo è dibattito politico ma poi per fortuna sopra il dibattito politico c'è il diritto le norme e i diritti fondamentali sono sanciti da norme di carattere internazionali che sono imperativi anche rispetto al nostro ordinamento interno ecco allora io sono allibita che si dica che Salvini poteva fare quello che ha fatto ai migranti della nave spagnola perché c'era scritto nel patto di governo giallo-verde cioè questo significa che se in un patto di governo scriviamo che ai cinesi presenti in Italia non va permesso l'allaccio all'acquedotto pubblico allora possiamo fare qualcosa del genere se scriviamo che i siciliani non devono uscire più dai confini della Sicilia allora si può fare qualcosa del genere oppure se si fa si va incontro fortunatamente al fatto che i giudici stabiliranno che abbiamo fatto un abuso di potere una violazione i giudici difendono i diritti delle persone dall'abuso del potere politico chi non capisce questo chi non capisce che c'è un equilibrio tra politica e magistratura che non si può fare tutto quello che si vuole che si dice se non capiamo che non si può fare tutto quello che si vuole cioè persino un ministro è soggetto alla legge mettiamola così facile facile Giovanni perché era il ritenente era lui e poi torno in studio vi pregherei di tenere insieme anche le notizie che arrivano dell'Albania che a me sembrano piuttosto rilevanti visto che abbiamo speso spenderemo diciamo quel miliardino così che non è che proprio ci escono fuori dalle tasche come diceva mia mamma prego prego Giovanni all'onorevole Piccolotti dico solo che la risposta migliore gliel'ha data quel PM di Catania Zuccaro mi pare che ha chiesto l'archiviazione per il caso Diciotti per il caso Diciotti però era un'altra vicenda non mi costringete a prendere i dettagli dai scomodando il principio della separazione dei poteri non ho mai capito non riesco a capire perché Montesquieu vale a Catania e non vale a Palermo non riesco a capire ma dopo di che si chiama separazione dei poteri si chiama separazione dei poteri al di là delle dichiarazioni in posse social scusate dai dai concludi pure Giovanni dopo di che dico solo che Roma e Palermo si tengono perché siamo l'unico paese occidentale ma credo del mondo in cui a decidere la politica sull'immigrazione è la magistratura ma quando al di sopra delle Alpi al di sopra delle Alpi ma non si riesce a parlare vabbè di salute al di sopra delle Alpi al di sopra delle Alpi leader socialdemocratici popolari di destra leader trasversalmente definiti dicono che l'accordo con l'Albania è una via interessante se non un modello o saranno tutti scemi saranno tutti scemi hanno capito tutto solo i nostri magistrati i nostri giornaloni va bene va bene Giovanni prego in studio Liria Abate e a chiudere Matilde Siracusano vi chiedo rapidità e terrei insieme appunto le due questioni sì che soprattutto bisogna ricordare che i magistrati applicano le leggi in questo caso dalla Corte Europea esattamente c'è una sentenza una sentenza precisa specifica i magistrati recepiscono questa sentenza europea che non l'hanno fatta né a Roma né a Milano né a Palermo quindi in base a quello che è stato deciso vedono che quello che è stato portato davanti al Tribunale Civile di Roma è una cosa che non si può applicare quindi non possono dare l'ok al fermo di questi migranti in Albania che è territorio italiano fra l'altro quindi scaricare la colpa sui magistrati mi sembra veramente vuole spostare l'obiettivo da un fatto serio a un fatto ancora più grave cioè che è quella di colpabilizzare magistrati che come dice qualcuno sono toghe di colore diverso non è così mai successo in Italia mai successo che abbiano fatto politica però stiamo parlando di questo caso specifico prego si racusano il caso specifico generalmente il sospetto che una parte minoritaria della magistratura in passato nel presente abbia condotto azioni in qualche modo giudiziarie politicizzate ci sono un po' di testimonianze tra cui ne abbiamo una enorme gigantesca dell'ex capo dell'NM Palamara è stato radiato è stato radiato è stato radiato proprio perché non poteva fare il magistrato dopo la testimonianza dell'ultimo non proprio dell'ultimo scappato di casa dell'ex capo dell'NM qualche cosina forse in più poteva accadere quindi non è che ci svegliamo oggi per il processo San Vino noi abbiamo visto e abbiamo seguito avevamo mandato Nicola Campagnani in Albania e facile facile ci eravamo interrogati avevamo visto la lista dei paesi considerati sicuri per la Farnesina un dubbio c'era venuto considerato che la corte europea con sentenza del 4 ottobre si era espressa in una certa maniera dicendo che sono sicuri i paesi di provenienza solo se sono sicuri su tutto il territorio e per tutti guardando quella lista c'era venuto un dubbio ora ci chiediamo visto che questo progetto è un progetto sul quale il governo ha investito così tanto anche in termini proprio di propaganda anche di diplomazia ti sei fatto le domande giuste perché che qualcosa non abbia funzionato l'abbiamo visto dalla partenza salgono in 16 ci sono due dice ma loro dicono che sono minori loro lo dicono perché lo possono dire perché non c'era un medico che faceva la radiografia quando sono partiti da Lampedusa allora è raffazzonato perché se hai deciso di mettere in piedi un sistema che deve far portare i migranti da qua a là il medico ci deve essere è il giorno 1 il medico ci deve essere non c'era il giorno 1 abbiamo un problema è un progetto che nasce diciamo vogliamo dire col piede sbagliato intanto è un modello molto coraggioso diciamo che questo governo ha deciso di intraprendere che è visto anche con molto interesse dagli altri leader europei lo dimostrano anche le immagini che abbiamo visto ieri è un modello ovviamente in fase di collaudo qualche piccolo problema in fase di avviamento ci può stare perché ovviamente è complesso non è che fare è tutto molto semplice quindi io ho molta fiducia non condanniamo senza appello un qualcosa che ancora deve partire vedremo gli effetti no no per il momento abbiamo fatto il gioco dell'ogra sono partiti e tornano a casa poi vediamo la premia è stata anche chiara in Parlamento si parla del 7% della spesa complessiva che l'Italia affronta per gestire l'emergenza migranti 100 milioni di euro per 5 anni a fronte di 1 miliardo 800 milioni di euro che complessivamente l'Italia spende quindi se è un modello che funziona e lo vedremo allora saranno soldi ben spesi siamo qui e osserveremo ovviamente no 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 ma noi sicuriamoci siamo qua tutti i giorni quindi ha voglia ad osservare racconteremo racconteremo tutti i giorni come procede per ora tornano a casa quei 16 poi vediamo che cosa succede Alessio la premier Meroni Tiziana si trova in Libano però sui social ha postato poco fa una dichiarazione tema migranti PD 5 Stelle Alleanza Verdi Sinistra hanno presentato un'interrogazione alla commissione europea chiedendo se intende aprire una procedura di infrazione contro l'Italia per l'accordo sui flussi migratori con l'Albania avete capito bene una vergogna che non può passare inosservata cioè il PD Alleanza Verdi e Sinistra e 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione alla commissione europea per sapere se la commissione stessa intende aprire o meno una procedura di contrazione Nicolotti me lo conferma? Guardi credo di potermi me lo confermare io non sono adesso al Parlamento europeo non ho sentito i nostri parlamentari ma se le agenzie hanno battuto la notizia sarà sicuramente così noi ce ne stiamo occupando a tutti i livelli ovviamente perché lei lo sa che la lettura sarà remate contro il paese volete una procedura di infrazione per il paese io remo per i diritti delle persone i diritti umani fondamentali da sempre non me ne vergogno anzi sono molto felice di stare da questa parte del mondo quella che appunto difende la libertà difende il benessere io al solo pensiero che abbiamo speso 250 mila euro per mandare 16 persone di là dal mare in una specie di campo di concentramento non lo è un campo di concentramento e poi le stiamo riportando non ho il tempo del dibattito è chiaro il ragionamento le dovevo la domanda perché insomma succede un fatto lo commentiamo in diretta grazie a tutti gli ospiti sta arrivando Giuseppe Santalucia Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Clubus in Fabula mettiamola così eccoci qua di nuovo in studio sono molto contenta di ritrovare Giuseppe Santalucia magistrato Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e sono contenta che sia venuto a trovarci in studio grazie ho moltissime cose di cui parlare benissimo intanto le voglio dire proprio lei l'ubus in fabula cioè di magistrati oggi si parla moltissimo siete brutti sporchi e cattivi ma questo lei lo sa già giusto? Siamo un po' abituati a questo di trattamento questa è la normalità in particolare oggi siete un po' più brutti di ieri per due ragioni le do i titoli una ragione si chiama Albania un'altra ragione si chiama Open Arms le affrontiamo una per volta sì i giudici del Tribunale di Roma hanno deciso che i migranti che sono in questo momento in Albania che erano stati portati in Albania al centro di accoglienza e rimpatrio devono essere riportati in Italia e non possono essere trattenuti lì lo hanno deciso davanti a me l'agenzia di Ennecronos che ci ha informato di questo lo hanno deciso perché dicono i paesi da cui provengono che sono il Bangladesh e l'Egitto non sono sicuri e quindi devono tornare indietro sono dei giudici appunto brutti sporchi cattivi e rossi di sinistra sono toghe rosse qual è il punto? sono giudici che applicano le norme le norme volute dal nostro ordinamento e dall'ordinamento europeo di cui noi facciamo parte integrante la legge di ratifica e l'accordo Italo-Albania prevede la procedura di trasferimento sul territorio albanese presso questi centri per la procedura accelerata di valutazione delle richieste di asilo sempre che si provenga da paesi sicuri l'Egitto e credo anche il Bangladesh ci siano stati inseriti nell'elenco del decreto ministeriale tra i paesi sicuri ma è un decreto un provvedimento amministrativo che alla luce dell'ordinamento nazionale e sovranazionale soprattutto come interpretato dalla Corte di Giustizia perché l'ordinamento sovranazionale vince in questo caso vince vince perché apparteniamo ad un ordinamento europeo che ha una posizione di primazia sulla legge interna e quindi non vale il fatto che il mio elenco io mi faccio il mio elenco sulla base di quello che decido perché il tuo elenco va disapplicato se inserisci tra i paesi sicuri paesi sicuri che secondo l'ordinamento sovranazionale europeo tali non possono essere considerati e allora il giudice è costretto è chiamato e ha il dovere di tener conto della normativa sovranazionale perché i diritti fondamentali delle persone sono la barriera contro le scelte della maggioranza che violano la legge e gli ordinamenti che la compone questo è un concetto sul quale torniamo perché diciamo una delle questioni è un governo viene eletto e risponde agli elettori su un preciso programma certo e quindi il governo ha il diritto poi di cercare di realizzare quel programma lei mi sta già dicendo certamente il governo ha il diritto di realizzare il programma ma lo deve fare ci sono degli argini il magistrato serve a ricordare il garante degli argini la procedura di frontiera accelerata 28 giorni diciamo tempi un pochino compressi a me sembrerebbe non sono un'esperta del settore però diciamo sono tempi sufficienti considerato che uno viene preso in Italia poi trasferito lì e bisogna fare tutta una serie di passaggi sono tempi sufficienti a garantire alle persone il diritto diciamo a all'effettività a esercitare i propri diritti l'ho detto male ma insomma ci siamo capiti certo è uno dei problemi perché ovviamente assicurare l'effettività dei diritti del migrante che chiede l'asilo che chiede protezione internazionale quando c'è una dislocazione territoriale è un problema ma rispetto a quel problema la magistratura lavora per favorire l'effettività non siamo lì a come dire sabotare un provvedimento e un sistema di regole posto dal governo e poi dal Parlamento che ha ratificato l'accordo italo-albanese ma lo facciamo le chiedo se uno può favorire o non favorire cioè immagino che poi il magistrato cerchi di favorire quell'iter veloce faranno tutto il possibile i magistrati quello che le chiedo però è diciamo rispetto a ciò che è la pratica che conosciamo e sono certamente tempi molto ristretti 28 giorni molto ristretti ma se quelli sono i tempi che la legge ha segnato i magistrati faranno di tutto per rispettarli dando effettività ai diritti e ovviamente in questo caso il trattenimento non era possibile convalidarlo perché il paese non è sicuro perché secondo le direttive della Corte di Giustizia che interpreta in maniera vincolante l'ordinamento sovranazionale non è sicuro un paese dove una parte di quel paese non assicura appunto i diritti fondamentali sotto una tortura violenze ci sono luoghi di conflitto armato tutti questi casi si fuoriesce dalla procedura accelerata e non si può quindi fare parte del circuito italo-albanese quindi non si può restare in Albania bisogna per legge dello Stato non per volontà dei giudici certo perché così ha stabilito il governo se i migranti dovessero cominciare ad impugnare le risultanze della procedura che deve durare 28 giorni e se i giudici dovessero dare ragione in funzione di quelle impugnazioni al migrante salta tutto? Che succede? Lei l'ha capito? No io ho molte perplessità ma non le voglio anticipare in senso che non voglio dare l'idea che le nostre perplessità diventino questione pregiudiziale per non attuare le norme vedremo e lavoreremo per risolvere ogni problema ovviamente nel rispetto dei diritti questo deve essere chiaro se i diritti non possono essere rispettati salta la procedura la procedura è strumento di attuazione dei diritti non è l'inverso non è il contrario la porto a Palermo dunque i parlamentari della Lega i ministri un paio di ministri credo di aver visto Valditara sicuramente ma anche il ministro dell'economia Giorgetti non c'era il ministro dell'interno Piantedosi non c'era il generale Vannacci però un certo numero di parlamentari anche di europarlamentari della Lega e appunto due ministri arrivano a Palermo e sono mobilitati a sostegno di Salvini le faccio sentire cosa ha detto Salvini ieri sera è arrivato anche lui a Palermo c'era la requisitoria dell'avvocato della difesa paura zero ritengo di aver fatto il mio lavoro facevo il ministro mi avevate chiesto di bloccare l'immigrazione clandestina di fermare gli sbarchi di chiudere i porti di salvare le vite di ridurre i reati quello ho fatto quello mi viene imputato dalla sinistra una sinistra veramente vigliacca becera questo è un processo politico voluto dalla sinistra in Parlamento portato avanti da una parte di magistratura di sinistra che c'è nei tribunali di mezza Italia domani se avete qualche minuto di tempo ascoltate in diretta streaming ad esempio su Radio Radicale ci sarà l'intero intervento dell'avvocato della difesa la grandissima Giulia Buongiorno che smonterà pezzo per pezzo un'accusa allucinante fuori dal mondo incredibile assurda sequestro di persona per aver detto a una nave spagnola andate in Spagna andate in Francia andate a Malta andate in Tunisia andate in Libia andate in Grecia andate dove volete ma non in Italia allora io dottor Santa Lucia ovviamente non le chiedo di entrare nel merito del processo i processi si fanno nelle aule dei tribunali quindi evitiamo di farli qui però le chiedo alcune considerazioni anche se vuole di tipo istituzionale a parlare le parole che abbiamo sentito le pronuncia un ministro di questo paese che è leader politico ma è ministro di questo paese ed è vicepresidente del consiglio il quale chiama la mobilitazione i suoi parlamentari e cioè parlamentari della Lega e i ministri della Lega che effetto le fa tutto questo e che cosa significa per il paese allora non si può creare un conflitto tra politica e magistratura e non lo si può alimentare con questo tipo di rappresentazione io difendo i confini e c'è una parte della magistratura che evidentemente persegue un interesse contrario all'interesse dello Stato della collettività italiana non è così questo è un modo di impostare la vicenda mi rendo conto del ministro Salvini ha tutto il diritto e ha tutti gli strumenti per difendersi nel processo però è un modo di raccontare il processo all'esterno che crea in genera sfiducia nell'istituzione giudiziaria che viene rappresentata come una parte che sostiene la parte politica la fazione di sinistra e quindi tradendo il suo mandato di imparzialità di terzi età ma fa male alle intere istituzioni repubblicane è un modo per rappresentare le dinamiche complesse perché questa è una vicenda complessa che merita di essere guardata con estrema attenzione dal tribunale di Palermo e sono certissimo che questo sarà in un modo semplicistico e come dire avvelenato di rappresentare i rapporti tra le istituzioni c'è un passaggio forse sono le prime parole di Salvini quando dice io avevo promesso agli elettori qui torniamo alla questione del mandato popolare il programma politico io avevo detto agli elettori che e quindi semplicemente ho difeso i confini ma qui torniamo anche al tema del come esattamente bisogna attuare i programmi di governo liberissimi di definirli e che se no vale tutto intendo dire se no all'interno noi siamo uno stato di diritto la legge regola le azioni con cui si attuano i programmi quindi se vuoi tutelare i confini da un'immigrazione clandestina illegale lo devi fare nel rispetto delle leggi e dei diritti delle persone che sono ripeto a cui è sottoposto anche un ministro tutti le maggioranze non c'è una maggioranza che possa violare i diritti fondamentali è questo il nucleo grande di libertà di democrazia dello stato italiano e di tutta l'Europa occidentale la legge e i diritti fondamentali sono sovrane rispetto alle maggioranze non possiamo metterci d'accordo con un voto maggioritario per conculcare i diritti delle persone non solo dei cittadini italiani ma di qualunque individuo entri in contatto con la nostra comunità giuridica se si avvelena il clima succede anche che arrivano le minacce che arrivano gli insulti via social ma le minacce mi preoccupano di più al punto che lo diciamo a chi ci segue da casa uno dei PM è stato messo sotto tutela mentre gli altri due già erano sotto scorta sì sono gli effetti indiretti di questa rappresentazione in contrapposizione in lotta tra chi difende lo Stato un programma una promessa elettorale e chi cerca di smontare quel programma e di non fare gli interessi della comunità italiana questa rappresentazione ovviamente può essere certamente forbiante e in chi non ha gli strumenti per decrittarla può portare anche ad atti appunto che poi in generale un bisogno di sicurezza personale per i magistrati in velocità perché abbiamo già esaurito il tempo però ci sono altre due cose che le voglio chiedere la porto altrove si parla molto dell'inchiesta di Perugia io e lei in altre occasioni ne abbiamo già parlato anche dei conti spiati a Bari insomma è tutto uno spiare la Premier si sente la persona più dossierata d'Italia in realtà quella persona in particolare davvero ha frugato nei conti di moltissime persone poi però c'è anche il caso delle incursioni hacker nel sistema della giustizia italiana mi dice di che si tratta e devo chiedere brevità abbiamo scoperto grazie a un procedimento penale dell'autorità di Napoli napoletana che un ragazzo per quanto abile ed esperto ma solamente un ragazzo un 24 anni è riuscito a penetrare nei sistemi a me mette un po' di paura questa cosa questo mi ha messo moltissima paura anche a lei anche a noi noi abbiamo scritto al Ministro della Giustizia che ci riceverà tra qualche giorno per avere come dire rassicurazione che quello che è accaduto è un fatto eccezionale che non potrà riaccadere perché già sappiamo che i sistemi informatici del Ministro del Ministero di Giustizia sono inadeguati scontiamo enormi difficoltà nella gestione dei processi telematici ma sapere pure che sono così permeabili dall'esterno che si può come dire entrare nelle scrivanie che è un 24enne per quanto è esperto riesce ad entrare e che scrivono provvedimenti cioè facciamo fanno norme sulla non pubblicità degli atti processuali poi abbiamo degli hacker che che poi sembra sembra il filo rosso la permeabilità sembra il filo rosso che tiene insieme Perugia ma anche abbiamo bisogno di rafforzare la banca lo spione della banca e gli hacker di cui le parla evidentemente c'è un problema in questo senso generalizzato certo le banche dati sono fondamentali l'immagazzinamento dei dati però ovviamente bisogna muoversi sul terreno della sicurezza le chiedo solo il titolo gestazione per altri e legge il reato universale non abbiamo capito che vuol dire la parola universale significa che nel senso è una scelta di valore politico su cui io non intervengo la guardo sul piano tecnico si può punire il cittadino italiano che all'estero compie un atto di maternità surrogata anche se all'estero l'atto non è considerato reato praticamente se non è considerato facevo la battuta perché universale vale per tutti vale per noi anche fuori dall'Italia al di fuori della territorialità lo commetti in Canada ti possiamo perseguire in Italia io chiedo sommessamente ma se in Canada non è reato come si farà ad avere collaborazione dall'autorità canadese come gli chiedi i documenti che per loro non è reato e poi quelli canadesi sarebbero complici per i canadesi è un atto lecito non ci daranno cooperazione giudiziaria si dà cooperazione giudiziaria se il fatto è reato sia per l'autorità che richiede cooperazione sia per l'autorità che la dà quindi siamo sempre dalle parti della deterrenza è un uso simbolico del diritto penale uso simbolico del diritto penale almeno così impare poi vedremo come vivrà la legge grazie davvero dottor Santalucia ci vediamo presto no? senz'altro grazie fissiamo un appuntamento quando vuole grazie qualche minuto e torniamo eccoci qua di nuovo in studio saluto i miei ospiti Alessandra Maiorino senatrice Movimento 5 Stelle bentornata a Tagadà Renata Polverini Forza Italia bentornata grazie buonasera il giornalista della verità Fabio Dragoni finalmente in studio bentrovato Fabio oggi dovrò trattarti benissimo solo perché oggi mi devi interrompere dopo 30 secondi invece dei soliti canoni di C10 perché sono qui ma come? ma se ti tratto con affetto a prescindere in collegamento la vice direttrice di Open Sara Menafra ben trovata Sara grazie buon pomeriggio allora voglio parlare con voi di maternità surrogata la possibilità per una donna di portare avanti una gravidanza per un'altra persona coppia per qualcun altro questa possibilità diventa reato universale dico diventa reato universale perché in Italia è già reato ma diventa reato universale diceva vabbè universale vale per tutto il mondo no universale diciamo l'abbiamo usato un po' così in maniera un po' estensiva perché vale per gli italiani in tutto il mondo penso e spero di averlo detto bene fatemi sì con la te l'ho detto bene perfetto Margherita Costa mette in fila i pezzi dichiaro chiusa la votazione il Senato approva con questo voto del Senato è diventata reato universale la gestazione per altri ovvero saranno punite anche le coppie italiane che fanno ricorso alla pratica nei paesi stranieri in cui è consentita pena da tre mesi a due anni di carcere e una multa da 600 mila a un milione di euro la maternità surrogata è una tecnica di fecondazione assistita in cui una donna porta avanti una gravidanza per conto delle persone che poi diventeranno i genitori del bambino l'ovulo e della futura madre oppure di una donatrice in modo che la gestante non abbia legami con il nascituro il seme può essere del futuro padre oppure di un donatore la gestazione per altri in Italia è già vietata da 20 anni e da allora le coppie italiane si sono rivolte all'estero dove è consentito ovvero praticamente ovunque in Canada Stati Uniti Europa Irlanda compresa tranne Francia e Germania le regole sono diverse da paese a paese così come sono diversi i costi e sì perché può essere una pratica altruistica in cui i genitori pagano solo le spese mediche e legali della gestante oppure commerciale in cui la gestante riceve anche una somma di denaro così come spesso vengono pagati i donatori di seme e di ovulo i costi compresi quelli delle agenzie che se ne occupano dai 140.000 euro degli Stati Uniti ai 50.000 dell'Ucraina che infatti è una delle mete preferite dalle coppie italiane numeri precisi sulle nascite da surrogata in Italia non ce ne sono una stima empirica parla di 250 350-350 bambini l'anno il 90% da coppie eterosessuali Alessio il nostro sondaggio abbiamo chiesto un primo commento a chi ci segue sulla nostra pagina Instagram sulla legge Varchi quindi reato universale per la gestazione per altri vediamo come avete risposto siete d'accordo oppure no sì l'11% di chi ci segue no l'83% un 6% invece non ha chiari i termini della questione vediamo se riusciamo a chiarirli noi intanto senatrice Maiorino lei ha detto speculazione sulla pelle dei bambini sì assolutamente è così perché in tutto questo ecco questo nome è propagandistico perché come ha chiarito bene lei non si tratta affatto di reato universale che è un'altra cosa in tutta questa furia ideologica e propagandistica nessuno si è preoccupato di quali saranno le conseguenze sui bambini già nati poi si dice sempre bambini ci sono 18 anni ormai che sono nati con questa tecnica italiane e italiani stanno parlando so che stanno rilasciando finalmente anche interviste sono persone in carne e ossa che esistono quali saranno quindi le conseguenze di questo sui bambini sui minori nessuno se ne è preoccupato ovviamente meno tutele ma io dico anche sui bambini che stanno per nascere cosa succederà alle tante coppie che già avevano avviato questa procedura per poter diventare genitori e stanno aspettando il bambino o la bambina adesso saranno dei criminali universali rischiano di essere messi in galera io voglio dire subito una cosa perché non è stata detta abbastanza in commissione le stesse forze politiche che hanno voluto questa questa legge avevano presentato anche un emendamento che diceva nero su bianco che i bambini dovevano essere tolti alla coppia di genitori e messi in adozione quindi questo è il tipo di concetto che vogliono imporre e con cui si sono mossi senza alcun tipo di rispetto per le persone che esistono senza ascolto davvero uno spettacolo vergognoso surreale che mai avrei pensato di vivere nel mio paese Fabio Dragoni furiedologica i bambini non si comprano si adottano questa è la prima considerazione la seconda considerazione se siamo d'accordo che la maternità surrogata è un reato non vedo perché ci si scandalizza se questo reato viene commesso all'estero cioè non è la prima volta che succede una cosa del genere nel nostro ordinamento ci sono dei reati che sono qualificati come reati universali chi intrattiene rapporti sessuali con minori in Thailandia o Cambogia è perseguibile in Italia anche se il reato è commesso all'estero poi lasciatemi dire che c'è una bei chili 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 di ipocrisia non la chiamiamo gestazione per altri chiamiamola per quello che è utero in affitto perché una donna non ti ho interrotto fammi non l'ho interrotta cioè una donna non si fa impiantare non si fa impiantare un ovulo nel proprio utero facendosi bombardare gli ormoni che aumentano di otto volte cito cito Lucetta Scarafia che è una nota femminista il rischio di tumore per lei e il rischio di tumore per il nascituro quindi o voi mi portate il caso della moglie di Mark Zuckerberg che si fa inseminare dal pescatore ugandese e in questo caso si parla e in questo caso si parla di utero in affitto con questo tipo di linguaggio di personaggio perché è la verità i bambini ma io non mi rifiuto di confrontarmi primo perché la legge prima perché la legge non è retroattiva quindi mi porti lei il passo della legge in cui dice chi è nato dalla maternità surrogata si vede negato l'accesso al diritto di sanitario me lo porti me lo porti questo passaggio di ignoranza di ignoranza clamorosa si va bene me lo porti ma è bene compulsiamo la legge compulsiamo la legge vi prego vi prego siccome stiamo parlando Fabio fermati un attimo Fabio ti devi fermare io ho questo dono della voce Fabio guarda me ti devi fermare un attimo perché no davvero vi prego perché stiamo parlando di una questione ma come ti permetti ma come ti permetti tu di strellarmi ma chi ti urla nell'orecchio sto parlando con la conduttrice è evidente che non hai argomenti vorrei chiedere agli ospiti di fermarsi un attimo di tenere basso il tono della voce e del dibattito perché stiamo parlando di persone di scelte che possono essere molto complicate molto faticose stiamo parlando di ragazzini che sono nati con la gestazione per altri che magari ci stanno ascoltando che stamattina ad esempio c'è una bellissima intervista di una ragazza che racconta di essere figlia dei due papà e di avere la sua vita eccetera e di sentirsi in grande difficoltà perché fai così col capo non è corretto perché non puoi essere figlia di due papà non è corretto se lei decide se lei ti dice la mia famiglia e quelli sono i miei due papà lo rispetti non puoi essere figlia di due papà lo rispetti no devi essere per forza figlia di un uomo e di una donna non a caso nella maternità subjugata quella ragazza dice i miei due papà e io la rispetto e quindi dico i suoi due papà e due papà ve li presento e vi prego teniamo i toni giusti perché stiamo parlando della pelle viva delle persone e stiamo parlando della pelle viva dei ragazzini quindi se non vogliamo rispettare gli adulti almeno rispettiamo i ragazzini proviamoci allora intanto fatemi salutare Carlo e Cristian io pensavo di arrivarci più morbidi vi chiedo scusa e invece ci arrivo già già sto agitata proviamoci piano piano intanto benvenuti anche se a questi toni violenti al bullismo istituzionale ahimè le famiglie omogenitoriali la comunità del ZBT è abituata da quando si è da quando abbiamo questo esecutivo la violenza io non so chi è Carlo e chi è Cristian io sono Cristian oh ciao ciao Cristian ciao Carlo vi posso dare del tu? certo ok mi raccontate la vostra storia io vi pregherei diciamo lo faccio proprio come emozione d'ordine proviamo a stare sulle cose perché secondo me a casa c'è bisogno di capirle le cose quindi proviamo a spiegarle stiamo sulle cose poi ognuno ha la sua idea che io rispetto cioè uno può pensare che la gestazione per altri sia sbagliata però proviamo a raccontare le cose allora chi di voi mi racconta la vostra storia? allora sì noi ci siamo conosciuti oramai nel 2014 dieci anni fa e da subito confrontandoci avevamo questo legittimissimo desiderio di genitorialità nel 2014 non c'erano nemmeno gli unioni civili quindi diciamo che era un sogno veramente molto molto impopolare molto lontano tre anni dopo ci siamo uniti civilmente siamo stati una delle prime coppie tra l'altro insomma perché desideravamo urlare davanti amici e parenti il nostro amore perché pensiamo che questo sia anche un legittimo desiderio quello di poter raccontare anche un amore tutto al maschile e subito dopo abbiamo tra l'altro noi tradizionalissimi perché nove mesi dopo eravamo anche l'unanimiele abbiamo scoperto più tradizionali di noi veramente molto pochi siamo diventati genitori quindi abbiamo rispettato tutti i tempi canonici diciamo quanto vi preoccupa questa legge e diciamo che sensazione avete rispetto a questa legge che sia scritta contro chi o a favore di chi ma allora l'impressione è proprio quella che sia una una bandierina una legge ideologica perché poi ovviamente i giuristi quelli che ne sanno più di noi dicono che non sarà applicabile se non dalla Corte Costituzionale comunque non ci sono i problemi anche sul piano giuridico quindi in Europa e la troviamo discriminatoria soprattutto nei confronti delle famiglie omogenitoriali perché ovviamente il sommerso le coppie eterosessuali che hanno sempre fatto GPI che continueranno a fare 90% coppie eterosessuali 10% coppie omosessuali esatto non avranno necessità di dichiarare al funzionario di turno come hanno avuto quel bambino all'estero saranno solo i papà che saranno in qualche modo obbligati a farlo quindi sembra quasi e allora aspetta su questo ti fermo subito questo però Pulverini significa che è una legge discriminatoria perché già discrimina tra chi può non farlo sapere e chi può farlo sapere e chi è obbligato a farlo sapere è una materia molto controversa chiaramente molto difficile anche da dibattere io ho votato anche le unioni civili insieme ad altri colleghi di Forza Italia perché penso che il paese è cresciuto è andato avanti qualcuno può pensare indietro io penso avanti e la politica ha il dovere di normare diciamo il contesto della società che cambia per quanto riguarda questa cosa specifica è evidente che c'è un problema che ha a che fare con il corpo delle donne non a caso molte femministe sono contro la procreazione giusto? sì dicono sì con la testa lo dico perché perché non è un fatto molte volte di scelta della donna io ho letto anche qualche anno fa di una mamma che mise a disposizione il proprio corpo per sua figlia perché non riusciva a diventare mamma e quella sicuramente è una scelta può essere come dire di battuta può piacere o no ma è una scelta ci sono tante persone in tanti paesi del mondo tante donne dove invece non lo fanno per scelta lo fanno perché non hanno altri strumenti per procurare evidentemente un beneficio economico per se stesse o per la propria famiglia e quel tema è questo quando questa è una scelta della donna dopo di che dico allora però per procedere per passettini la Polverini pone una questione che secondo me è una questione molto importante molto rilevante la vostra la mamma in questione credo che si chiami Crista è corretto? sì esatto Crista me la fate conoscere forse abbiamo abbiamo un piccolissimo contributo me la fate conoscere la sentiamo? Carlo, Cristian raccontatemi voi chi è Crista per voi e vi devo chiedere sintesi ovviamente così possiamo confrontarci tutti rispondo rispondo precisamente alla Polverini perché ha sollevato una questione molto molto importante a noi sarebbe piaciuto che in questa legge ci fosse un distingo tra quei casi in cui ci può essere uno spettro di sfruttamento e quei casi invece in cui è una scelta libera volontaria e consapevole questo è il caso di Crista noi abbiamo conosciuto Crista e c'è stata immediatamente una connessione perché ricordatevi che ci sono delle negli Stati Uniti ci sono delle variabili precisissime sull'accesso a queste tipologie di percorsi che sono scelte personali e intime che non devono mai essere messe in discussione le donne devono essere già madri non devono essere assolutamente al di sotto di una certa storia di povertà e questo è un tema importantissimo che la narrazione tossica che viene fatta nel nostro paese rispetto alla gestazione per altri si dimentica si mettere sullo stesso piano paesi che hanno ben regolamentato la GPA penso anche UK in forma solidale o il Canada ha effettive cioè bisogna distinguere l'ombra dello sfruttamento significa rovesciare la narrazione non possiamo parlare di GPA che comunque è una tecnica di PMA chiamandola sempre comunque utro in affitto o identificando sempre degli abusi e reato perché non è così perché se facciamo questo discorso mentiamo a noi stessi e facciamo delle figuracce a livello internazionale allora allora no perdonatemi perché secondo me stiamo toccando un punto molto importante è quello che provo a dire dall'inizio io non ho un'idea poi certo tendenzialmente penso delle cose però non è che uno deve per forza essere d'accordo con la gestazione per altri ma può provare a ragionare serenamente sulla gestazione per altri si può provare a pensare ti chiedo Sara si può provare a pensare che se voglio ragionare su questo e sul corpo delle donne ad esempio mi assicuro metto in campo tutti gli strumenti possibili per assicurarmi che non ci sia lo sfruttamento del corpo delle donne io penso che nessuno sarebbe stato contrario a quel tipo di provvedimento si è deciso però di fare un'altra cosa sì una cosa più semplificata che avrà l'effetto discriminatorio che dici tu almeno da quello che abbiamo capito finora verificando più o meno insomma con le nostre inchieste insomma come tanti altri giornali cosa succede nei singoli paesi e quindi per quello che abbiamo capito finora effettivamente il vero rischio lo corrono solo le coppie omogenitoriali mentre il 90% di chiude alla GPA le coppie etero non dovendo portare un certificato di gravidanza della gestante di nascita da una gestante ma solo papà e mamma sono questi cioè tu non vado a viaggio e vado all'anagra e dico mi è nato il figlio ero in vacanza negli Stati Uniti eccomi qua questo è il bambino si chiama Giovanni chi è la mamma chi è il papà questa è la mamma questo è il papà tutto a posto se arrivano Carlo e Christian hanno un problema in più ovviamente evidentemente hanno un problema in più e quindi c'è un rischio di discriminazione fatemi sentire per favore le parole della ministra Roccella perché noi siamo andati alla fonte siccome poi c'è il tema del che cosa scegli di fare di come lo fai e poi c'è anche il tema di quanto è praticabile cioè se è solo uno slogan o se lo puoi tradurre in un fatto reale andiamo dalla Roccella Maria Grazia Gerina Ministra avete appena approvato la legge sulla maternità sorrogata come si immagina l'applicazione di questa legge io penso che abbia e spero che abbia un effetto fortemente dissuosivo non c'è un effetto retroattivo questa sarà una legge che avrà effetto per chi da ora in poi vorrà accedere a questa pratica L'ufficiale di Stato Civile di fronte al quale si presentino due padri per registrare un atto di nascita all'estero è tenuto a denunciarli? Sì ma anche il medico cioè un pubblico ufficiale è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge alla procura e poi si vedrà Lei ha sempre detto che c'è l'adozione per casi particolari per tutelare i minori un secondo padre che chieda l'adozione per casi particolari automaticamente deve autodenunciarsi oppure dovrà mentire Io non capisco perché si dà per scontato che una legge deve essere violata cioè se si fa una legge si pensa che questa legge sarà rispettata non dò per scontato che questa legge sarà violata e quindi già predispongo come rimediare alla violazione in Italia c'è una procedura che protegge i minori e assicura la possibilità del compagno del genitore biologico di diventare a sua volta di essere riconosciuto come genitore Allora diciamo vengono sollevate diverse questioni mi colpiscono due cose Fabio seguimi sul ragionamento le mettiamo in fila e andiamo su tutti gli elementi promesso però proviamo ad andarci con ordine mi colpisce il fatto che questo governo c'è sempre un problema di dissuasione apriamo il centro in Albania è dissuasione vietiamo la carne sintetica e dissuasione ma non la facciamo non c'è in Italia è dissuasione non lo so potrei fare altri esempi mi fermo adesso facciamo la legge contro la gestazione per altri la facciamo per dissuadere chi la vuole fare e questo è un elemento l'altro elemento è la delazione cioè facciamo un paese di spioni per cui tu gentilmente caro vicino di casa se vedi tornare la coppia perché per loro è facile facile ma il vicino di casa se vede tornare la coppia e torna dopo sei mesi e c'è il bambino va lì e denuncia e così scopriamo che c'è stata la gestazione per altri ma che paese immaginiamo mi chiedo allora cioè non ne ho parlato io la ministra Toccella che dice dissuadere e dilazione bisogna mettersi d'accordo se se la gestazione per altri che io siamo utero in affitto per i motivi che ho detto prima e su cui non torno è un reato nessuno dovrebbe indignarsi nessuno dovrebbe indignarsi se la legge punisce chi questo reato lo commette all'estero altrimenti fate la vostra battaglia e dite non deve essere un reato nemmeno se è fatto in Italia punto secondo quando sento dire ma che succede ai bambini signori chi va all'estero per fare un reato è consapevole che è lui per primo a commetterlo questo reato indipendentemente dal fatto che possa farla franca perché è evidente che una coppia eterosessuale va in Grecia torna con un bambino e dice ma ha partorito lì è partita incinta e quindi è una legge che discrimina non è una legge che discrimina d'altra parte se il buon Dio ha deciso che a partorire debbano essere un uomo e una donna e non due uomini che ti posso fare è una legge che discrimina ma che ci posso fare è una legge che quindi discrimina perché ci sono alcune persone che potranno serenamente farla franca e altre che no allora si parla di maternità e paternità il desiderio di paternità e maternità non è un capriccio e qui stiamo entrando nelle scelte se è giusto se è sbagliato io non voglio parlare di questo non è che ogni capriccio può diventare un diritto adesso il capriccio cioè adesso utilizziamo categorie che io non voglio utilizzare non è che noi siccome ci sono due persone che si amano e vogliono essere genitori noi dobbiamo disegnare un punto allora no 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 io voglio stare siccome io sui giudizi morali francamente rispetto alla vita delle persone e no sì perché se è capriccio è un giudizio morale allora io i capricci i giudizi morali i giudizi morali in questo studio ne facciamo a meno quindi via giudizi morali fuori da questo studio Sara Menafra mamma mia che fatica Sara Menafra oggi è complicatissimo dunque ti chiedo siccome siccome poi quello che interessa a me è quanto c'è di propaganda e quanto c'è di praticabilità la domanda che mi faccio io è facile facile io prendo e vado in California adesso prima c'era Santa Lucia che di mestiere fa il magistrato no? e io gli ho chiesto dico ma come funzionerà? io vado in California e con la gestazione per altri torno a Roma con un bambino ok? che succede? io ho commesso un reato un reato universale quindi per dimostrarlo però ai magistrati devono chiedere i documenti alla California per la quale non è reato mi diceva Santa Lucia col piffero che la California ti manda i documenti quindi già abbiamo risolto la questione non puoi provare il reato quindi fine del gioco ma andiamo un pezzetto avanti facciamo finta che ci mandano i documenti a quel punto sono tutti complici perché se io ho commesso un reato universale per il quale devo pagare un sacco di soldi e due anni di carcere quello che ha fatto partorire la gestante la gestante il medico l'infermiera tutti complici miei quindi questi qua li arrestiamo o non li arrestiamo e mettiamo un mandato internazionale di cattura cioè ragazzi ci stiamo prendendo in giro no allora la legge punisce solo i cittadini italiani come infatti Elon Musk quando viene in Italia non viene punito nel senso non è sottoposto a indagine al di là della punizione non viene indagato Elon Musk quindi tutti gli altri salvi e questo è buono per loro sì però comunque sarà molto difficile procedere perché appunto i documenti non ve li danno per esempio sì esatto difficilmente i paesi in cui è reato daranno documenti e tra l'altro questo meccanismo che auspicava la roccella dovrebbe essere un meccanismo per cui un medico italiano viene a sapere che la coppia l'ha avuto fa una denuncia ma poi in realtà senza la prova proveniente dello stato di provenienza mi pare difficile procedere quindi appunto anche lì torniamo in una cosa in cui eventualmente l'elemento di indagine sarà sulle coppie omosessuali ma poi non so se riescono a chiudere comunque il processo visto che sono due padri e hanno dovuto presentarsi in consolato o a seconda dei paesi poi la procedura di rientro è diversa poi la roccella dice anche Maiorino che per tutti quelli che hanno già iniziato il percorso se ho capito bene per tutti quelli che hanno già iniziato il percorso non si applica non è chiaro il reato ma gliel'ho chiesto Maria Grazia Gerina noi abbiamo una clip l'abbiamo mandata all'inizio della puntata lo dico per la regia me lo fate sentire è la clip che abbiamo mandato nella nostra anteprima perché in questo pezzo che abbiamo mandato adesso non c'era questa parte scusatemi sono informazioni per la regia però se no non ci capiamo proviamo a vedere se è quella giusta non c'è un effetto retroattivo questa sarà una legge che avrà effetto per chi da ora in poi vorrà accedere a questa pratica l'ufficiale di stato civile di fronte al quale si presentino due padri per registrare un atto di nascita all'estero è tenuto a denunciarli? si ma anche il medico cioè un pubblico ufficiale è tenuto a segnalare i casi sempre veloci allora poi segnalavo alla redazione potevamo uscire perché alla regia potevamo uscire perché appunto il resto lo abbiamo sentito ma c'è quel passaggio preciso in cui dice non può essere retroattiva tutto chiaro? intanto colgo l'occasione per salutare con grande affetto Carlo e Cristian ci conosciamo mi hanno mandato una lettera da leggere in senato che ho fatto con grande piacere purtroppo senza successo perché quando si è di fronte alla furia ideologica non c'è argomento che possa valere e che possa convincere pensiamo di fronte a due criminali universali io vorrei che fosse chiaro a due pericolosissimi criminali universali che hanno messo al mondo i prodotti del loro crimine perché ora i bambini di Carlo e Cristian sono prodotti e sono merci per questo io dico che ci dobbiamo vergognare per il linguaggio che io ho sentito usare in questo studio ed è questo quello che farà al di là delle conseguenze legali che colpiranno i bambini e le bambine che già hanno poche tutele questo stigma questo tipo di linguaggio lascia i segni ed è proprio quello che ha detto Lia che ha fatto 18 anni è perfettamente in grado di intendere e di volere di difendersi e di parlare per sé e ha denunciato proprio questo io non mi sono mai sentita così offesa così umiliata come da chi mi chiama prodotto e merce quando io vivo in una famiglia quella dei miei due papà dove regna l'amore dove mi hanno accudito mi hanno fatto crescere mi hanno dato tutto quello che due genitori devono dare ai bambini e alle bambine io veramente sono indignata e voglio che si veda perché è evidente che questa gente gli viene l'orticaria quando vede due papà che spingono la carrozzina o due mamme che spingono la carrozzina è evidente non fanno nulla per nasconderle questo è l'unico motivo per cui avete voluto che questa legge venisse approvata d'altra parte Barchi lo ha denunciato lo ha dichiarato pubblicamente ha detto questa legge noi non ci arrenderemo mai l'ideologia la teoria gender e quindi approveremo la GPA reato universale non gliene frega niente delle donne della dignità delle donne della libertà delle donne dell'autodeterminazione delle donne assolutamente niente volevo dare la parola a Carlo e Cristian che volevano aggiungere qualcosa prima di salutarci assolutamente quello che dice la senatrice Maiorino è reale noi siamo andati a letto l'altro giorno come cittadini normali tra virgolette ci siamo sbagliati oggi siete esatto criminali ma se è vero che anche sui social voglio dire le persone si sentono in questo clima attuale sociale politico più legittimati a insultarci abbiamo poco notato in questi due giorni quanto la retorica le frasi utilizzate anche con violenza durante la discussione in senato vengono riprese a modello cocorite passatemi il termine però quell'odio fa male fa male a noi ma farà male anche ai nostri figli quando un domani rispetto a quello che dicevo per favore facciamo attenzione al tono è doloroso e vorrei che chi magari si facesse un passo indietro si stemperasse i ritoni e si ricordasse che si parla di famiglia si parla di bambini si e soprattutto si ritornasse un po' parlare di quella che è ci siamo totalmente dimenticati di quella che è il ruolo della responsabilità genitoriale c'è un'ossessione morbosa nei nostri confronti sul modo in cui sono venuti al mondo i nostri figli senza concentrarsi su che tipo di genitori noi siamo oggi allora io mi interrogo e chiedo anche allo stesso Dragoni se tutte queste energie non c'è il tempo della risposta quindi non posso farti fare la domanda se no siamo rovinati concentratevi sulle famiglie disfunzionali perché Giuliano e Sebastian due padri che li vogliono bene ce li hanno va bene va bene grazie Carlo e Christian grazie per essere stati con noi devo fermarvi c'è una cosa che mi ha colpito il generale Vannacci interpellato sul punto dice perché avete chiesto al generale Vannacci eppure qualcuno lo ha fatto ha detto che certo che vanno fatti i figli ma dico no alla gestazione per altri perché i figli devono essere fatti in modo naturale ora mi è dispiaciuto perché prima se collegato con noi Vannacci gli avrei voluto chiedere se per esempio la fecondazione eterologa per lui è naturale non è naturale perché quella per esempio è legale in Italia quindi chi lo sa se è naturale oppure no mettiamo delle telecamere diciamo che c'è questo desiderio di ingegnerizzare una cosa che dovrebbe essere la più naturale possibile e questo sinceramente a me dà un enorme fascismo è legale la fecondazione eterologa è legale va benissimo ma no perché sennò facciamo passi indietro siccome è legale la fondazione eterologa la fecondazione eterologa Meloni deve essere legale la gestazione per altri Meloni Ubi Maier c'è Meloni è in Libano sentiamo apriamo parla in inglese lo ricordiamo Giorgio Meloni è andata in Libano oggi non so se passerà anche se nella base Unifil ma non credo è andata credo dal presidente dell'ospite del presidente di Libano che oggi era intervistato tra l'altro vediamo noi adesso ascoltiamo intervistato dal Corriere Berri dice serve il cessato il fuoco poi il confine sarà controllato dal nostro esercito e da Unifil questo oggi da Repubblica è intervistato vediamo che cosa sta dicendo Meloni andiamo in pubblicità poi torniamo appunto su quello che sta succedendo in Medio Oriente Alessio a due aggiornamenti Tiziana rispetto al tema dibattuto tra i 30 coppie che faranno ricorso ci sono anche coppie con donne eterosessuali malate di cancro che soffrono di patologie che rendono impossibile portare avanti una gravidanza senza i rischi della vita e poi i migranti in Albania torneranno in Italia domani su una nave della Marina Militare dopo la pronuncia della sezione immigrazione del Tribunale di Roma che ha detto che è illegale trattenerli nei centri che l'Italia ha fatto costruire in Albania si torna alla casella di partenza del resto nel gioco dell'oca funziona così grazie a tutti gli ospiti io penso che bisognerebbe rivedere la legge sugli affidi e sulle adozioni questo potrebbe risolvere una parte dei problemi molto bene molto d'accordo andiamo in pubblicità grazie a tutti gli ospiti